Vai Renato! Signori e signori, buonasera! Vi presento il nostro nuovo resort Sette Stelle consigliatoci da TripAdvisor. Sette stalle! La prego, sto facendo il mio lavoro. Continua, continua. Lei è semplicemente un video operatore, ok? Continuiamo. Allora, ecco qua i nostri ospiti. Abbiamo Maria Pia Negro, purtroppo con un cognome infelice in questo momento, vista la situazione politica italiana. Mentre abbiamo qui il signor Marin, il fruttologo di Ciarbatli e poi abbiamo Bogdan, abbiamo mio figlio Enrico, mia moglie Brigitte e Davide il Porschman. Una cosa che vi voglio far vedere è il nostro amico boa constrictor che si chiama Noah. Prego Noah, fatti vedere. Prego. Non dare alle spalle. No, è il nostro controllore. Notare la finezza dei soffa, eh? Non sono dei soffa Ikea. È il lupo, ecco qua. Abbiamo una serie di sette lupi che ci proteggeranno questa notte dagli attacchi di chissà di quale. Abbiamo saputo che c'è un esercio di acari che fra poco ci assalirà. Continua, continua. Non dare le spalle alla camera. No, mai. Questa è la cucina, prego. Faccio entrare. Ecco qua. Ah, sì, no, questa è la pre-cucina. Pre-cucina. Chi è lei? Lei è Petra, la moglie di Marchinio, il Brasileo, che purtroppo è partito poco fa. Purtroppo o per fortuna. No, no, no. Purtroppo per lei, per noi. No. Simpaticissimo. Sì, ok. Ok. Prego. Ecco qua la cucina. Faccio vedere l'aga. L'accoglienza è perfetta. Qui abbiamo un tipico dolce sudamericano preparato dall'ospite, già colui che ci sta affrontando. E lo assaggeremo appena possibile. Però vi voglio fare notare una cucina. Faccio vedere l'aga. Ah, un attimo. Guardate, per fare le crepes su set abbiamo questi rimontanti. Ecco, queste non sono delle crepes su set, ma sono delle pizze su set. No, l'aga è una stupa che vale un sacco di soldi. La solita, come dire, esperta di Sotheby e Cristi, che ha detto il valore di questa cosa. Venga, una chicca, una chicca, una chicca. Non guardate il disordine, venite. La sala più bella, afona, quindi praticamente il cesso viene usato in modo intermittente. No, quello è il gesso del re. Si. Uno si siede, così. Aspetta che, diciamo, il compagno dorma. Si. Appena sarà promettato, scarica l'attenzione. Eccoci qua. Continuiamo. Continuiamo la visita. Eccezionale. Dei divani, pelli di animali. Questo è lo studio? Pelli di animali selvaggi. Lo studio questo? Si, lo studio. Che si studia qua? Guardate, guardate qui. Ma sono degli abiti? Se uno vuole fare una serata un po' più pazzarella, ecco qua, ci si può vestire da donna e per una volta nella vita cambiare sesso. Ecco qua. Prego, guardate qua. Che bellezza, eh? Cosa manca? C'è tutto. Guardate. Non funziona. Fa niente. Prego. E qui. La più famosa delle sportico rumbo. Eh? Pijama già pronto. Cesso da Marti questa sera. Attivo. La trina del tuo vestito blu. Il rosa di questo bagno è incomparabile. Eh? Cioè, io dico, ma che è quel gran figlio di puttana che ci ha portato in questo posto. Adesso se ne va a dormire fuori. Basta. Chiudi. Chiusa. Buona, buona. Questa è buona.